Dovrà scontare 5 mesi e 10 giorni di carcere per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale l'uomo di origini napoletane che lo scorso marzo aveva minacciato di morte due controllori in un autobus che da Orbino era diretto a Pesaro. Vincenzo Albanese era stato fermato senza biglietto e al controllo dei due addetti aveva reagito in maniera arrogante minacciando di ucciderli entrambi e far del male anche alle loro famiglie. L'uomo sembra essere già ben noto per episodi simili sia alle forze dell'ordine che al tribunale tanto che il giudice dopo aver pronunciato la sentenza si è rivolto agli imputato dicendogli mi raccomando adesso basta.